Assessore Ferricioni, oggi si parla della Cerrano Family Fest e anche dell'Adri Cup, manifestazioni importanti per la vostra città. Molto importante, grazie alla regione Abruzzo, appunto con l'Abruzzo Open Day, il comune di Atri, Pineto e Roseto assieme hanno creato una serie di eventi che si chiamano appunto Cerrano Family Festival. Ad Atri è stata affidata l'Adri Cup quest'anno è la 31esima edizione, parte appunto con l'Abruzzo Open Day per tutto il mese di giugno e si concluderà con lo spettacolo di Travaglio in Piazza Duomo il 2 luglio. Tanto sport, mini basket, calcio, mini volley, sono tanti tornei nei nostri centri appunto sportivi ma c'è molta cultura, tanta cultura. Partiremo il 2 con Shakespeare in teatro comunale dove i ragazzi della scuola di Atri appunto hanno allestito il sogno di una notte di mezz'estate, poi ci sarà la nazionale basket in carrozzina che giocherà al centro turistico integrato, tanti altri eventi, la Cossa di Miguel, ecco il 3 ad Atri da Roma, appunto la Cossa di Miguel si è spostata in Atri e ci sarà appunto una staffetta a 10, ci sarà una testimonial d'eccezione alle ore 19 per la premiazione della Cossa di Miguel che è Fiona May e il 4 giugno in Piazza Duomo alle ore 21 ci sarà appunto lo spettacolo di Roberto Vecchioni che presenterà il suo libro. Sempre Vecchioni terrà in concerto in Piazza Duchi d'Acquaviva ad ingresso gratuito e concluderà la Tri Cup il 2 luglio come diceva appunto Marco Travaglio in Piazza Duomo.